E si torna, cari amici, al grande fratello hip se vi fa piacere in compagnia di Max, per sapere cosa, che Oriana Marzoli è totalmente nella lente d'ingrandimento di Orietta Berti, che abbiamo subito fatto vedere nell'immagine e che vi mostrerò anche tra poco. Sì, lei è stata spesso silenziosa, ma sempre attenta all'opinionista, attenzione, perché si è accorta di quanto fatto dalla concorrente e non ha risparmiato un commento abbastanza severo. Oriana, che viene da una settimana difficile, che è reduce dalla solita valanga di critiche, di polemiche e dal confronto con Daniele Dal Moro. È stato detto, se tu mi chiedi oggi per come stanno le cose, potresti avere qualcosa con Oriana? Ti direi di no. Contesto bene, metto in dubbio il fatto che mi fido. Questo aveva detto. E ancora, tu è come se a me mi avessi ferito, ma tu a me non dovevi niente, non ce l'ho con te. Ma di base sono inca perché se fra di noi le cose sono così, è perché tu le hai fatte venire così. A parole non riesco a essere carino perché per me non te le meriti. Quando sono con te sono carino, ma anche arrabbiato. Confronto che c'è stato anche ieri sera. Parlando del loro rapporto Dal Moro ha detto, Il mio percorso, la mia vita è stata segnata da persone che non si sono comportate nel migliore dei modi. Se dovessi dirti il perché, io non lo so. Non credo di essermelo mai meritato, non lo so. Non sono mai stata una persona cattiva. Il problema tra me e Oriana non è solo la fiducia. Il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che lei dà alla nostra cosa. Io penso che a Oriana sia sempre piaciuto Luca. Parole che non hanno lasciato indifferente Oriana e neppure Sonia Bruganelli che ha detto la sua su Luca. Per lui quello che ha visto prima conta. È vero che stanno dentro la casa. È normale che possa avere un'attrazione. Lui ci tiene tenendoci a paura. Insomma, il carattere di Oriana Marzoli terrebbe lontano Luca Onestini. La delusione di Oriana è sfociata in una serie di parolacce, tanto ripetute che Orietta Berti è intervenuta, che non ripeta più quella parolaccia siciliana che le hanno insegnato lì perché la degrada, non dirla più perché gli altri non ti dicono niente. Anche Signorini è intervenuto. Pare che la tiri fuori ogni due secondi. Non è una bella cosa.